Quando una cosa bella arriva inaspettata vale doppia come soddisfazione. E' quanto successo a Cristiano Tomei, chef dell'imbuto che da inizio settimana, ovvero da quando è stata pubblicata la nuova guida Michelin, può vantare un record che mai nessuno poteva togliergli, la prima stella mai assegnata nel centro storico di Lucca. E' stata una grandissima sorpresa, noi siamo un ristorante un po' fuori dalle righe, quindi credo che questa cosa faccia un po' bene a tutti, io me lo auguro che sia una stella benvenuta. Per Cristiano la consacrazione di un concetto di cucina che va oltre la manipolazione della materia prima, scelta con cura quasi maniacale, che è diventato un mercato di fabbrica unico per lo chef Viareggino. Io diciamo che a un certo punto ho deciso che dovevo darmi completamente ai miei clienti, darmi nel senso totale, quindi da me si sceglie solo quanto uno vuole a lungo il percorso, poi chiaramente noi ci adattiamo alle esigenze del cliente, cioè abbiamo anche clienti vegani, quindi non è che ci telefonano prima e ci chiedono, guardi siamo vegani, si può venire? Ci adattiamo al momento e ci adattiamo al momento anche con il mercato, con quello che c'è, con la stagionalità, facendolo in maniera vera, e questa formula sta funzionando, facciamo gli scongiuri e piace, cioè a noi ci entusiasma ogni giorno, anche perché mi dà la possibilità di mettermi sempre in discussione, che questo è fondamentale nel mio lavoro, mai sentirsi bravi in questo lavoro, bisogna smettere subito. La stella Michelin arriva in un momento d'oro per Tomei, che in questi giorni è sul piccolo schermo su D-Max come giudice della trasmissione il re della griglia, ma in generale questo riconoscimento è lustro per la ristorazione lucchese e sarà senz'altro da stimolo per chi vorrà mettersi alla prova dietro a Fornelli.